Fra gli atti processuali mancano i faldoni delle intercettazioni e così dopo 22 anni il processo per omicidio è da rifare. Il caso riguarda la morte di Michele Molfetta, 38 anni ucciso per errore durante una rapina avvenuta a Vitritto nel 1993. Gli atti sono stati restituiti dal GUP alla procura affinché integri le carte mancanti, ma c'è il rischio che il reato possa accadere in prescrizione prima della conclusione del processo. Per l'omicidio di Michele Molfetta sono imputati il boss pentito Antonio Di Cosola e altri quattro. Soltanto oggi, tra l'altro, la posizione di due di essi è stata stralciata perché minorenni all'epoca dei fatti. Michele Molfetta venne ammazzato dinanzi alla figlia di quattro anni da rapinatori mascherati da pagliacci. L'inchiesta, nel corso degli anni passata per le mani di quattro pubblici ministeri, nel 2008 è giunta ad una svolta grazie alle dichiarazioni di pentiti. Imputati sono il boss Antonio Di Cosola insieme ad altre quattro persone. A 22 anni dal fatto e a pochi mesi dall'avvio dell'udienza preliminare si riparte quindi dal principio. Un fatto grave, ha commentato il procuratore di Bari Giuseppe Volpe, secondo cui la sparizione del fascicolo non è sicuramente un fatto degli ultimi tempi. Del resto, in una situazione logistica inadeguata, basta girare nei corridoi della procura per rendersi conto dello stato in cui si trovano i fascicoli. Ma non è tutto, il giudice ha anche dovuto stralciare la posizione di tre imputati, due dei quali accusati dell'omicidio di Molfetta, perché ci si è resi conto solo ora che all'epoca dei fatti avevano non più di 17 anni. Di loro quindi si dovrà occupare il Tribunale per i minorenni.